Felici, è finito l'isolamento. Andiamo? Felici, è finito l'isolamento. Allora che dobbiamo fare? Terzi o te devo andare a prendere il caffettino al bar? Sor Muret, guarda che c'è uno che ti sta cercando. Dice che si è fatto trasferire a bossa da Regina Celi per parlare con te. Eh dai, Gesù, è mai uscito dall'isolamento. È qua da due mesi, fatti po' il professore. Si chiama Pietro Zinni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.